Buonasera a tutti, giornata almeno per me sorprendente sui principali listini europei, quegli americani stanno dimostrando comunque una forte resilienza ma indubbiamente nella giornata odierna stanno decisamente sottoperformando i principali indici azionari europei, tant'è che il DAX è andato a fare nuovi massimi storici e noi comunque abbiamo fatto la più alta chiusura di periodo che significa essere pronti addirittura per andare a quel target che vi avevo già indicato poco sopra area 35.000 su time frame mensile, ma vedremo tutto tra poco nel dettaglio, perché giornata sorprendente? Perché anche se non mi sarei mai aspettato un crollo in seguito all'attentato che c'è stato a Mosca, però non pensavo che il mercato avrebbe risposto così positivamente. È ovvio che bisogna comunque, visti i livelli raggiunti, ancora più di prima navigare a vista, perché effettivamente è incredibile come il mercato non storni praticamente mai. Io ho detto chiaramente che sono rientrato già da qualche seduta nella mia modalità, non capisco ma mi adeguo e sinceramente invidio molto i miei colleghi che sono tutti molto tranquilli per questo rialzo, continuano a dare dei target incredibili per moltissimi titoli che sono già saliti molto, io invece resto comunque più prudente perché il mio timore è che se dovessimo continuare a salire così tanto, poi questi rialzi a mio avviso esagerati il mercato prima o poi e in tempi non lunghissimi ce li farà sicuramente pagare. Prima di iniziare volevo condividere con voi un motivo di soddisfazione enorme per quanto mi riguarda che è il superamento del milione di visualizzazioni per questo canale YouTube. Essendo un canale di nicchia che si occupa di un mercato di nicchia, perché come sapete io non mi occupo di criptovalute, non mi occupo di mercato azione americano, quindi è un canale che non potrà mai crescere come altri, ma ritengo immodestamente che vengano forniti dei contributi più concreti per l'operatività quotidiana e molti dei di coloro che guardano questi video. e aver superato i milioni di visualizzazioni è un dato molto importante perché a mio avviso soddisfa un criterio fondamentale per il successo di un canale YouTube, ovvero le visualizzazioni proporzionalmente importanti rispetto al numero degli iscritti. E questo è un canale che ha ancora, ahimè, purtroppo pochi iscritti, ma i cui video vengono visti in percentuale, tante volte dal 30-40, con punte anche di oltre il 50% degli iscritti, cosa che canali ben più blasonati si sognano. Per cui volevo condividere con voi questo traguardo e ringraziarvi perché ovviamente il merito è mio per i contenuti pubblicati, ma è ovviamente vostro che mi seguite quotidianamente con grande affetto. Veniamo ai mercati, vi condivido lo schermo. Partiamo ovviamente dal Dow Jones, vi ho già detto dei mercati azionari americani, dove c'è un tentativo di riportarsi su livelli di supporto importanti per il Dow Jones 38.988, poi 38.761, ma nulla per carità è compromesso. Diamo uno sguardo alla famosa rialzista partita dal minimo del 27 di ottobre e vedete che per il momento riesce comunque a tenere e a maggior ragione se la facessimo passare sul minimo del 15 di marzo. Standard & Poor's 500, anche qui c'è un tentativo di andarsi a cercare i supporti, ovvero 5.171, 5.131, ma come per il Dow Jones vedete che c'è un tentativo di stare ben al di sopra della rialzista partita dai minimi del 9 di novembre. Possiamo anche, perdonatemi, tirare anche questa, perché in effetti, scusate, questa è più corretta a mio avviso. Ecco, vedete comunque non cambia nulla. Nasdaq Composite, anche qui vedete che la rialzista è comunque ancora sotto i livelli di prezzo attuali, ma anche Nasdaq Composite sembra voler ritornare a 16.127, 15.951. Nasdaq 100, stessa identica situazione, qui abbiamo, diciamo, se facciamo passare la rialzista per i minimi del 15 di marzo e del 19 di marzo non ci sono problemi, se invece facciamo passare per i minimi del 21 di febbraio, allora già questo livello di supporto dinamico è messo in discussione, comunque, come per il Nasdaq Composite, 18.003, 17.809, eventualmente 17.764. Russell 2000, qui siamo nelle ultime tre sedute internal range, compreso tra 2.071 e 2.106. Vi dicevo del DAX, ennesimo nuovo massimo storico a 18.285, con chiusura a 18.261, qui non vedo ancora segnali per un principio di correzione. Diverso il discorso per il Caccarant, perché si sta indebolendo il settore del lusso, continua a essere penduta di breve periodo caring e nelle ultime sedute anche Wiviton sta leggermente soffrendo, per cui in questo caso è possibile un ritest di 8.090, oggi ha fatto comunque 8.101, poi 8.000, quindi 7.984. Eurostoxx è sempre sui massimi di periodo, qui abbiamo però un trading range piuttosto stretto tra 5.008 e 5.058, Eurostoxx banks anche qui siamo in trading range nelle ultime tre sedute, 134.67, 136.57, Futsimit Fusions, vedete, massimo a 34.145, il precedente era 34.125, torniamo sempre sul livello mensile di febbraio 2008 a 35.105 come obiettivo di questo movimento. Ovviamente è comunque innegabile che, come peraltro anche su altri sottostanti, ci sia una divergenza ribassista sia su MACD che su RSI, per cui sempre massima prudenza. Mid cap, nuovo massimo di periodo a 47.986, chiusura a 47.893, in questo caso vediamo che su time frame settimanale l'obiettivo potrebbe essere 48.419 a questo punto massimo della terza settimana di gennaio del 2022. Bene, anche il Futsistar ha raggiunto praticamente il primo target che era 47.802, ha fatto 47.778, però bisogna adesso reputare come obiettivi validi il 48.137 massimo di periodo del 2 gennaio, di quest'anno eventualmente c'è il 48.090 che è il massimo del 28 di dicembre. Poi, veniamo adesso ai volumi del FIB che sono bassissimi, forse anche perché il passaggio Optic oggi ha creato nuovamente dei volumi, non vi dico il nuovo simbolo del FIB, almeno su Sfera perché è da mal di testa, solo 9.161 contratti fino a questo momento scambiati, anche i volumi totali non sono stati eccezionali perché sono stati inferiore ai 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi e 470 e prima delle aste eravamo addirittura sotto i 2 miliardi. Prendiamo adesso ai titoli che hanno fatto meglio, a quelli che hanno fatto peggio a livello di Futsimib. Dobbiamo partire da Saipem, come sapete non riesco sempre a leggere in tempo reale i vostri messaggi e a rispondervi prontamente perché ho tantissimi impegni e peraltro anche quando non riesco a rispondere prontamente leggo sempre i vostri messaggi perché se c'è qualche tema di discussione mi piace affrontarlo nel primo video utile. Ho trovato un messaggio di Andrea che mi diceva perché parlavo di distribuzione su Saipem. Ovviamente l'analisi tecnica non è infallibile, però se mi richiedeste alla chiusura di venerdì un pensiero su Saipem vi confermerei che vedevo una distribuzione perché vedevo una divergenza ribassista su MACD, su RSI, la rottura della rialzista di breve partita dai minimi del 4 di marzo. È ovvio che la candela odierna rimette tutto in discussione, però io non so che oggi Saipem risponda così bene a un movimento che invece a mio avviso sarebbe dovuto essere di ritorno a 1,973, poi 1,9385, quindi 1,891,8815. L'unica spiegazione che mi do a questo movimento è l'ennesimo target price fortemente al rialzo, quello di oggi di Berenberg, buy 3 da 2,85, c'è questa quasi volontà di spingere Saipem sempre più in alto e sinceramente me lo spiego poco perché come vi ho già detto se valutassimo con gli stessi multipli le aziende Saipem e Tenaris, Tenaris con Saipem a 3 euro dovrebbe valere 80 euro, però bisogna prenderne atto, oggi il nuovo massimo di periodo 2,15,1 poi ha chiuso 2,14,8, se notate 2,14,8 è sia la chiusura di oggi che il massimo del 15 di marzo che se non ricordo male andiamo a vedere, allora 2,15,8, il minimo del 28 di giugno 2022, quindi questa è un'area di resistenza molto forte, però dopo la seduta di oggi c'è la possibilità di tornare a 2,26,1 che è il minimo del 5 di luglio e 2,33,2 che è il minimo del 6 di luglio 2022. Telecom Italia, l'unica notizia che ho trovato oggi che possa giustificare questo rialzo di Telecom è quello che vi ho già detto nel video di preapertura, il Tesoro sta valutando la possibilità di coinvolgere il fondo spagnolo di private equity Asterion come partner di minoranza per un'offerta su Sparco, la divisione di cavi sottomarini del gruppo telefonico, lo ha riportato a vendita di Bloomberg News spiegando che Tesoro e Asterion si stanno avvicinando alla firma di un accordo preliminare. Adesso il titolo si trova in una situazione molto interessante perché comanda sempre la candela benchmark dell'11 di marzo 0,20-0,21,98 però si sta molto avvicinando al massimo di questa candela, quindi in caso di superamento di 0,22,98 il titolo potrebbe tornare a 0,23,43, poi a 0,24,91, 0,25,14 e quindi a 0,26 e 0,28. Proseguiamo con Amplifon, Amplifon me la spiego ancora meno di Saipen perché è vero che aveva provato a rimbalzare venerdì, ha provato a rimbalzare la media mobile a 50, 31,31 però che oggi facesse questa quasi ma Robozo White, 31,55, 33,15 era a mio avviso assolutamente imprevedibile, oltretutto come sapete Amplifon è un titolo che il mercato valuta in maniera più che generosa, più di 40 volte gli utili, 13 volte le bidda, ha un debito superiore alle 800 milioni, quindi per carità tecnicamente la candela di oggi dimostra che il trend range 31,24, 84,23 vuole essere a tutti i costi mantenuto, però tenetene conto quando andate a operare sul titolo. Leonardo, nuovo massimo di periodo a 23,09, chiusura a 22,97. Vediamo il time frame mensile perché ormai siamo veramente su livelli che non vedeva da tempo immemorabile, i prossimi obiettivi sono 25, anzi scusate 23,60 gennaio 2001 sicuramente alla portata, poi si parla addirittura di 25,15, 25,16 massimi di novembre e dicembre 2020. Cosa è successo su Leonardo? Io credo che siano le indiscrezioni, oggi ho letto velocemente che hanno ritirato fuori gli euro bond per le spese per la difesa, potrebbe essere questo, sicuramente l'attentato in Russia spaventa anche altri paesi europei, extraeuropei e quindi c'è una corsa ad armarsi, a aumentare i sistemi di difesa, però sicuramente Leonardo in base ai dati pubblicati di recente è valutata in maniera assolutamente corretta, se non addirittura un po' sopravvalutata. Biper, nuovo massimo di periodo a 4,33,2, chiusura a 4,32,2, quindi quasi sui massimi di giornata, qui avevamo già visto più e più volte un target su time frame mensile a 4,69,4 sul massimo di gennaio 2016. Fineco, oggi è arrivata praticamente quasi a target perché ha fatto un massimo in 3,14,06, chiusura a 13,96, il target è 14,13,5, 14,14. Vediamo se dovesse riuscire a rompere a rialzo dove può arrivare, 14,30 direi sì, 15,0,15 leggermente più difficile, è il massimo della terza settimana di aprile del 2023. Anche Banco BPM fa nuovi massimi di periodo a 6,128, chiusura a 6,122, time frame mensile per confermare i target di 6,35,4, più difficile 6,81,4, massimi di marzo e di febbraio 2016. Unicredit. Unicredit, miglior chiusura da tempo immemorabile, però non ha ancora rotto i massimi di periodo di giovedì 34,28. Qui torna d'attualità il settimanale che avevamo, scusate il mensile, che avevamo già visto più e più volte perché c'è la possibilità, a mio avviso, di arrivare fino a 34,5, oltre si aprirebbe veramente un'autostrada e lo ritengo più complesso, però vediamo se riesce a stupire ancora. Poi voglio fare Eni perché oggi ritorna sopra la media mobile a 214,526, di conseguenza credo che nelle prossime sedute possa andare fino a 14,62, 14,73, poi sulla media mobile a 114,7, poi direi che è doveroso parlare ancora di Mediobanca perché fa nuovi massimi di periodo a 13,60 e mezzo, chiudendo a 13,56 e mezzo, andiamo a vedere il time frame mensile e in questo caso direi che possiamo parlare di 13,84, 14,17 come prossimi obiettivi. Non potendo fare tutto il listino è doveroso però parlare almeno di Ferrari perché oggi apre in forte gap up, diciamo in marcato forte, 401,5 il gap lasciato aperto e va a fare un nuovo massimo storico a 4,08, chiudendo poi a 4,06. Qui abbiamo un'alzata di targa di RBC out per un 4,63 da 3,80. Non credo che sia il successo di Sainz di domenica all'alba per noi almeno in Australia sia quello che ha fatto sì che il titolo potesse aprire in gap up, semplicemente il mercato è disposto a pagare questi multipli su Ferrari perché ormai siamo praticamente a 60 volte gli utili. Erghi invece è la situazione più complicata perché deve dimostrare di voler tenere area 23, io non ne sono così convinto, potrebbe raggiungere 22,56 come anche il minimo del 23 di ottobre 22,26. Campari ha chiuso il gap che era stato lasciato aperto a 9,09 sul massimo del 25 di gennaio, in quella stessa seduta faceva 8,94,6, poi c'è 8,87,6 minimo del 22 di gennaio. Poi voglio concludere con Diasorin che continua ad essere sempre molto debole e nonostante non chiuda sui minimi di giornata perché fa minimo 86,7, chiusura a 87,7 è ancora possibile che possa correggere fino a 86,04 e poi a 85,5. Facciamo ancora STM perché in molti continuate a chiedermela, anche qui vale il discorso fatto per Diasorin, non chiude sui minimi di giornata ma fa nuovi minimi di breve a 36,305, chiudendo a 39,88, ma il target potenziale di questo movimento è ancora 38,58, minimo del 17 di gennaio. Adesso andiamo a occuparci dei titoli al di fuori dei fuzzimi che hanno fatto meglio e di quelli che hanno fatto peggio. Allora, siccome un po' che non la faccio e anche qui mi avete scritto privatamente diverse volte, partiamo da Algovat. Allora, io ho un titolo nel quale non investo più da tempo immemorabile. Devo però ammettere, per la mia onestà intellettuale, che comunque mi sembra pronta Algovat per un rimbalzo, con il titolo che può tornare a 0,202 e poi a 0,217. Poi, ve la faccio vedere, ma i volumi sono veramente molto bassi. Oggi è stata ben comprata anche Monnalisa. Monnalisa ha fatto un massimo a 1,71, poi ha chiuso 1,62 e siccome scambia molto poco, non posso escludere di rivedere il titolo a 1,80, 1,96, però qua i volumi sono veramente molto bassi. Invece, convergenze, devo dire che questa Marlboro White almeno è stata supportata da 33.500 pezzi. 1,50, 1,59, primo obiettivo Mediamobile a 200, 1,649, poi 1,69 massimo del 24 di gennaio. Classe editori, apertura in forte gap a 0,1045, chiusura gap a 0,0968, poi chiusura a 0,105 e titolo che sembra avviato ai massimi di periodo di 0,109. Ho visto oggi ben comprata PLC, ma i volumi non sono così significativi, però il titolo sembra voler tornare prima a 1,83 e poi poco sopra area 1,90. Vediamo anche Iervolino, Iervolino volumi molto importanti, massimo intraday a 0,69,4, si è fermata poco prima della Mediamobile a 50, 0,7015, poi chiuso a 0,62,4. Voglio un attimo vedere la distribuzione degli scambi, fatemi un attimo vedere perché non vorrei ci fosse stato qualche incrocio perché io stavo facendo altro. diciamo che sui massimi il titolo è stato fatto battere, però fino a 68,6, 68,8, 69 qualcosa è stato comprato, la media di giornata al prezzo medio ponderato è 0,64,6, però potrebbe essere l'inizio di un movimento di recupero per il titolo che potrebbe arrivare fino a 0,76, 0,77,8 avendo la Mediamobile a 100, 0,79 e 1. Poi intrad, ecco intrad oggi non mi è per niente dispiaciuta, intrad respinta dalle medie mobili a 50, 10,47,4 e a 100, 10,40, primo obiettivo direi la Mediamobile a 200, 10,73, poi massimo del 29 febbraio 10,90. molto ben comprata anche Avio, Avio continua peraltro a rimanere in training range, compreso tra 9,20 e 10,30 con la differenza che adesso sembra voler tornare nella parte alta del range e poi eventualmente andare fino a 10,74, 10,84. Bel numero da parte di Fae Technology che stava avendo una seduta abbastanza in colore, poi pur mantenendosi all'interno del training range compreso tra 4,29 e 5 e 16, oggi dà un bel segnale perché fa una engulfing bullish e potrebbe ritornare appunto nella parte alta del range. Vediamo anche Energy, Energy bella risposta da un'area di supporto che è area 1,80, titolo che sembra voler rimbalzare fino a 1,94 e mezzo sicuramente, poi le medie mobili a 50,204 e a 202,07. Caltagirone, Caltagirone ci eravamo anche occupati di recente perché aveva lasciato quel gap aperto a 4,33, poi il titolo è volato sia venerdì che oggi, nuovo massimo di periodo a 5,18, chiusura a 5,08, vediamo subito a un time frame mensile per avere un primo obiettivo a 5,37 e mezzo e poi a 5,59 e mezzo. Poi andiamo avanti con Alcore, la ex soluzione tasse. Alcore, direi titolo pronto per un ulteriore recupero fino a 1,88, la media mobile a 100 è a 1,89, poi abbiamo direi questo massimo del 29 gennaio che è 1,93. Size Getters, era uscita quella notizia che avevo letto questa mattina sulle acquisizioni che si appresta a fare la società, nuovo massimo storico a 36,9, chiusura a 36,4 e devo dire che il titolo potrebbe ancora proseguire a rialzo per altre sedute. Data Logic, nonostante i dati fossero deludenti, quelli dell'ultima trimestrale e poi del bilancio annuale, sembra avviata a chiudere il gap a 5,78, poi ci sono la media mobile a 50, 5,88, poi media mobile a 100, 6, media mobile a 200, 6,138. Molto bene anche equità. Nuovo massimo a 3,98, chiusura a 3,92. Sono molto vicini i massimi storici che sono stati toccati a aprile 2022 a 4,12. c'è un 4,07 aprile 2023, un 4,11 maggio 2022 e un 4,12 aprile 2022. IGD. Io sono entrato questa mattina in apertura. Perché sono entrato su IGD in apertura? Perché a fronte di uno stop ragionevole, obbligato, 1,39,6, ho valutato che il titolo potesse tornare a 1,55, poi a 1,62. Ma il movimento, secondo me, di recupero avrebbe completato con un 1,73,2, 1,78. Quindi la motivazione principale è, oltre a quello che ci siamo già detti, che l'attuale capitalizzazione di mercato, a mio avviso, non valorizza adeguatamente la società, pur tra i mille problemi che può avere. E la molla che fa scattare l'idea di comprare un titolo come IGD è che è uno dei pochi dove si può ragionevolmente parlare di un rapporto rischio-rendimento decisamente favorevole. Proseguiamo con Karel Industries. Qui direi piuttosto bene perché confermata la rottura di 20,5. Quindi titolo che adesso potrebbe arrivare sulla media mobile a 50, 21,68, cioè 21,80 massimo nel 7 di marzo, poi media mobile a 100, 22,07. Ecco, come al solito, l'analizzo adesso per non mischiarla con i titoli del Futsimib, però anche la Telecom Esparmio si muove sulla falsa riga dell'ordinaria, è leggermente più debole perché comunque oggi ha fatto leggermente meno bene, più 3,14, però titolo che può tornare a 0,23,31 e poi a 0,23,50. Se rompesse 0,23,50 vale quello che ci siamo già detti per l'ordinaria, primo obiettivo 0,23,84, poi probabilmente 0,25,42 e 0,25,68, quindi 0,27,1. Cementir, Cementir, nuovo massimo di periodo a 10,34, chiusura 10,22, precedente massimo 10,18. Andiamo a vedere che ormai si può parlare di massimi storici di luglio 2007, nemmeno così distanti perché sono a 11,64, prima c'è un 11,43 e poi un 11,06, perché quello è un livello sicuramente un po' ambizioso. Elica, qui sta provando a fare base poco sopra 1,80, titolo pronto per un rimbalzo, prima 2,05, poi media mobile a 50, 2,068, media mobile a 100, 2,087, poi massimo del 7 di marzo 2,2. Banca profilo, seconda Marbozo White consecutiva 0,21,2, 0,21,8, mettiamo subito un time frame settimanale perché a mio avviso i target a questo punto sono 0,22,9 e poi 0,23,8. Poi facciamo le due MFE, io ho la B, si sta comportando un po' meglio secondo me la A, perché oggi ha dato per esempio un bel segnale confermando in chiusura l'autore di area 2,30, prossimi obiettivi 2,36,4, poi 2,41,4. La B è rimasta un po' più al palo, io però ho un buon prezzo di carico perché ce l'ho da area 2,90, credo che possa superare la media mobile a 50, 3,10, la media mobile a 100, 3,11,2, poi 3,13,5, quindi media mobile a 200, 3,17,5. E qui sembra voglia addirittura andare a uncinare a rialzo i massimi storici toccati di recente 13 marzo 34,4. Poi BS, BS bel recupero anche qui nonostante i dati non siano stati eccezionali, recupera la media mobile a 50, 11,995, chiude addirittura a 12,15, prossimi obiettivi 12,50, poi 12,64 massimo del 28 di febbraio. Guardiamo anche ALA, oggi va praticamente a ritestare i massimi storici di 20,2, più volumi del solito, titolo che potrebbe ancora proseguire al rialzo, se dovesse superare o meglio confermare la rottura di 20,20 in chiusura, quello sarà il nuovo livello di stop profit. Guardiamo anche Cairo che continua a essere ben comprata, nuovo massimo di periodo a 1,98,6, chiusura a 1,96,8, mettiamo un time frame, cominciamo dal settimanale, che basta già per vedere che l'obiettivo di questo movimento potrebbe diventare 2,065, 2,085. Vi ho già detto che anche RCS che è controllata da Cairo sembra pronta a partire, oggi nuovo massimo di periodo a 0,78, chiusura a 0,77,4, se andiamo a prendere un time frame settimanale vediamo che i prossimi obiettivi sono 0,802, 0,81,5 e credo che possa raggiungerli anche nelle prossime sedute. Olidata. Olidata sembra voglia fare base qui poco sotto 0,60, il livello più importante è 0,58,5, se non perde 0,58,5 è pronta a quel punto per un rimbalzo fino in area 0,68. Ciphergate. Vi ho già detto che io vedo il titolo pronto per un recupero dagli attuali livelli con un primo obiettivo 6,13, poi direi 6,30. Invece Do Value nonostante nelle ultime sedute sia stata sicuramente comprata però ci sono sempre molti movimenti quasi erratici a livello di posizionette corte. Perché se da una parte Citadel ha tagliato lo 0,88 o lo 0,98, Marshall Waves ha avviato una posizionetta corta allo 0,81 e Spark Investment Management l'ha alzata allo 0,62 e allo 0,50. Però vedo il titolo pronto per un ulteriore rimbalzo con un primo obiettivo a 2,24,5 poi a 2,31,5. La media mobile a 50,2,23,6. I limiti aveva un po' illuso oggi anche se continuo a pensare che possa proseguire il recupero. Oggi ha fatto un massimo a 4,73,8 poi ha chiuso a 4,60,4. A mio avviso potrebbe arrivare fino al ritest della media mobile a 50, 4,82,2 e il massimo del 28 febbraio è 4,85. Sempre molto bene di Italian Sea Group. Nuovo massimo storico a 11,28, chiusura a 11,10, lasciato un gap aperto sul massimo di venerdì a 10,88. Banca IFIS, Banca IFIS ha fatto una bellissima rottura a rialzo con un nuovo massimo di periodo a 17,82 e chiusura a 17,76. Vediamo sul time frame settimanale un primo obiettivo a 17,89 e poi può arrivare fino a 18,37, 18,51. Seri Industrial. Allora qui la situazione sta facendo interessante perché c'è il micro gap da chiudere a 2,72 sul massimo di giovedì. Ha fatto un massimo di periodo a 3,095 venerdì, ma poi ha chiuso quasi sui minimi a 2,78 e mezzo, per cui se non perde 2,72 c'è ancora spazio per un movimento a rialzo fino a 3,13 e mezzo, 3,29. Incredibile la forza di Fiera di Milano, ancora nuovo massimo di periodo a 3,93 e chiusura a 3,92. Prendiamo un time frame settimanale per vedere che il primo obiettivo a questo punto diventa 4,05 e poi 4,13 e mezzo. Raylatec finalmente sembra voglia rimbalzare. Primo obiettivo direi 2,07, poi 2,14, 2,15, avendo a 2,16 la media mobile a 200, a 2,17,2 la media mobile a 100. Poi a differenza di Trowell continua a essere sempre interessante SOS per il breve perché mi pare che voglia tornare sul massimo di 1,39 e mezzo dell'11 di marzo, poi ci sarebbe addirittura un 1,54 e mezzo massimo del 28 di agosto. Facciamo ancora GWS che io credo che escano domani, sono molto curioso di vedere i dati perché i multipli per ora sono assolutamente molto alti, il debito anche, per cui questo rimbalzo rispetto agli ultimi dati pubblicati non è avvalorato da fondamentali adeguati. Direi che adesso tecnicamente il titolo può arrivare fino a 7,07 e poi c'è addirittura 7,81 e mezzo, però qui sarei prudente e vorrei appunto vedere quali dati verranno pubblicati. Poi concludo i titoli che hanno dato delle buone sensazioni, che hanno dato dei buoni segnali con Railway. Railway oggi viene sostanzialmente respinta dalla media mobile a 50, 4,88, in realtà c'è un 4,89 e mezzo, ma direi subito media mobile a 104,93 e 2, poi 4,96 e mezzo massimo il 22 di febbraio, quindi media mobile a 200, 5,02. Adesso passiamo ai peggiori. Allora, ogni tanto mi fate notare, magari mi avete detto, Compagnia dei Carabbi era rimbalzata, vedete, cioè quando un titolo ha dei problemi può fare dei rimbalzi momentanei, qui ha fatto più 9,46, però vedete oggi meno 15, quindi assolutamente al momento starne fuori. Web Solute, qui la situazione è molto dedicata perché il titolo è praticamente vicinissimo ai minimi storici, anzi no, in realtà li ha fatti a 0,87,6, comunque ai minimi di periodo di 0,97, quindi io sinceramente al momento ne starei fuori, però chi dovesse mai avere il titolo sotto 0,97 sappia che sarebbe corretta una chiusura della posizione. P quadro, ecco P quadro, io oggi ne sono stato leggermente vittima, non mi aspettavo un ribasso così violento, tra l'altro accompagnato da volumi anche piuttosto significativi, questo implica un ritorno probabile in area 1,80 e poi probabilmente un target a 1,73. Aton è scesa secondo me ancora in conseguenza dei dati pubblicati venerdì, poco prima della chiusura di mercato, primo obiettivo direi 6,04, poi media mobile a 205,96,6, media mobile a 105,87,9. Poi Tecnogim, ecco Tecnogim qui ovviamente quando parlo di americanizzazione del mercato azionario italiano mi riferisco a casistiche come quella di Tecnogim, perché alla fine se andiamo a vedere i dati non sono stati così male, certo non capitalizza pochissimo perché mi pare che siamo attorno al miliardo e 8, però io ho guardato e riguardato, posso rimproverare a Nero Alessandri se me lo concede, lui grande imprenditore, io povero manovale del trading, l'abuso della Justin, però è comune a tutte le società, vedete, sia sull'Ebidda che sull'Ebit che sull'Utilinetto. Il ormai fantomatico, perché mi avete chiesto anche nei commenti Leo, ha sentenziato che dall'alto della sua inesperienza, questa è una battuta molto simpatica, probabilmente non è stato apprezzato tantissimo il fatto che dia solo 0,26 Euro per azioni dividendo, che ovviamente è una percentuale abbastanza bassa, però oggi titolo castigatissimo, il Gulf in Beric persa la media mobile a 50, 9,21,4, primo obiettivo direi 8,99, poi 8,83 e mezzo avendo la media mobile a 100, a 8,82. Poi per quanto riguarda PowerSoft, vi ho già detto che i dati erano buonissimi, però ci sta che il titolo possa iniziare una fase di correzione, per cui tornare a 14,9 e 14,4, quindi media mobile a 50, ovvero 14,15. Male invece proprio di periodo per Solid World, oggi è arrivata anche lettera pesante, mi pare proprio a 3,20, che è stata comprata, ha fatto un hammer dopo minimo a 3,20, chiusura a 3,36, però io vedo ancora possibile un ritorno del titolo in area 3,10. Defense Tech, secondo me i dati non erano così male, sono usciti venerdì a borsa chiusa, però io credo che il mercato si aspettasse qualche informazione in più rispetto a come desidera gestire la sua partecipazione in Defense Tech e in Defense Tech Tinexta, ovvero il mercato spera che ci possa essere un OPA allo stesso prezzo a cui è entrata Tinexta, che è 4,90. Non ci sono state comunicazioni a riguardo, nessun riferimento, il titolo che entra dai va a fare un minimo a 4,22 e poi chiude a 4,29, il primo obiettivo diventa 4,14, poi 4,10, 4,07. Poi cominciamo adesso a seguire Juventus perché è terminato l'aumento di capitale, direi che l'obiettivo per il breve è 2,0265, 2,0095. Altro titolo dove c'è una patisserie assoluta di posizionante corte è secco e vi dirò di più, a questo punto sappiamo chi è che ha causato il movimento di recupero intraday da 3,37 a 3,79,8 venerdì, è JP Morgan che ha ridotto la posizione d'età corta allo 0,94 dall'1,21, però venerdì era stata respinta la media mobile a 200 che è poco sopra 3,80 e adesso comunque non è detto che non possa tornare a 3,27,2 avendo a 3,28 la media mobile a 100 e a 3,24,8 la media mobile a 50. Poi Gismondi, Gismondi attenzione perché potrebbe ancora scendere fino a 3,84, 3,78 e poi minimi di periodo di 3,72, abitare in continua a essere sempre molto debole ma è ancora all'interno del turning range di cui vi ho parlato già in più occasioni ovvero 3,94, 4 e 16 e per me un ritorno fino in area 4,40 lo può ancora fare. Poi sempre debole erano stati veramente deludenti i dati pubblicati da Eurotech, che è il titolo che continua a soffrire e dobbiamo addirittura andare a un time frame mensile per vedere che il primo obiettivo è 1,606 minimo di maggio 2018. Osai, Osai fa una Doji ma fortunatamente non perde area 1,30 che è l'importante area di supporto che vi ho indicato già in più occasioni, è sempre possibile un rimbalzo fino alle medie mobili a 101,47,3, a 50 1,48,1. Oggi nel pomeriggio è stata venduta anche Italian Wine Brand, ha perso la media mobile a 200 che è 18,86, primo obiettivo è 18,20, poi incrocio alle medie mobili a 11,7,91 e a 50 1,17,89. Continua la fase di debolezza di Ariston, a questo punto come ho già detto rimangono 5,04, 4,89 che sono anche i minimi storici. Oggi è perso anche il 5,37,5, il minimo del 13 di dicembre. Schuker sta purtroppo ritracciando il bel movimento rialzista che ha fatto di recente il famoso più 26% a 2,77,5 a 3,51, c'è ancora la timida speranza di tenuta di 3,02, se ciò si verificasse come ho già detto può tornare fino a 3,54,5. Anche GP corregge ma da rally di periodo, quindi adesso potrebbe iniziare una fase di correzione con primo obiettivo 11,62, poi 11,30. Piovan anche qui ha fatto un bel movimento nelle ultime sedute e potrebbe aver bisogno di rifiattare un attimo e di iniziare a muoversi in trading range tra 10,50 e 11,90. TXT Nuovo massimo storico a 23,95 ma chiusura a 22,98. Anche per TXT dovrebbe apresi una fase di trading range tra 21,60 e 23,95. Neo Experience Oggi è stata anche sospesa No, scuota il Neo Decotel, non me ne confondo intanto. Tanto Neo Decotel mi pare che sia stata sospesa, sì. Ha perso intraday la media mobile a 200, 1,84,1 e a 100, 1,82,5. È andato a fare un minimo a 1,79 ma poi ha chiuso 1,84,5 facendo una spinning top. Ritengo però ancora possibile un ritorno a 1,74,5 e poi a 1,71. IMSI IMSI sta attraversando sempre una fase di debolezza, è in un trading range compreso tra 0,52,7 e 0,56,8. Diamo uno sguardo anche a Piaggio che è controllata da IMSI e qui la situazione è sempre la stessa da giorni. Trading range compreso tra 2,76 e 2,91,8 e titolo che non riesce a superare la media mobile a 100 che è proprio 2,91,8. Io credo che possa anche riuscirvi nelle prossime sedute con un obiettivo 2,99,4 poi media mobile a 50, 3,03. Facciamo Saffilo perché Saffilo è in area di massimi di periodo però secondo me è a rischio di distribuzione continua a comandare la candela di uscita dei dati quella del 15 di marzo 1,11,4,1,23,8 io credo che possa tornare a 1,11,4 e poi eventualmente a 1,066. Reply Reply sembra un po' arrivata di breve con primo obiettivo 127,4 poi media mobile a 50, 1,26, 2 poi 123,4, 121,6 WeBuild sicuramente debole dopo la BB di Unicredit potrebbe tornare a 2,18,4 e poi sul minimo di periodo di breve periodo del 6 di marzo di 2,16 c'è ovviamente poi l'1,98 ma quello lo ritengo un po' più difficile come obiettivo. Poi il risanamento che tutte le volte che sembra poter strappare a rialzo viene ributtata giù e qui continua il famoso trend range di area 0,03 e poi il massimo era 0,0347 ha fatto 0,035,2 venerdì ma ripeto finché non finisce di vendere Unicredit avremo sempre da penare perché io ho poche, ne ho 100.000 in portafoglio di risanamento però mi sto tenendo il titolo in portafoglio in attesa di incrementarlo non appena Unicredit avrà finito di vendere. In Novatec trading range tra 1,108 e 1,21 e 9 Poi faccio ancora Civitanavi perché è un titolo che ha toccato di recente massimi storici adesso potrebbe iniziare una fase quantomeno di consolidamento tra 5,12 e 5,50 il termine massimi storici è toccato sia oggi che venerdì Poi facciamo ancora Elen che sembra un po' rifiatare non deve perdere 10,1 per evitare un ritorno sulla media mobile 200 9,65,8 e poi c'è 9,56 minimo del 18 di marzo Concludo con un mio cavallo di battaglia che è Comer anche se l'ho gestito l'ultima volta malissimo perché oggi fa una shooting star sui massimi di periodo per cui potrebbe iniziare una fase di consolidamento con primo obiettivo 32,2 e poi 31,9 e quindi 31 minimo del 15 di marzo Con questo concluso auguro a tutti una buona serata e ci sentiamo domattina prima dell'apertura del mercato di urno Grazie a tutti